Una serata di buon umore è ciò che Canale 5 vi propone oggi. Con una satira del genere avventuroso, il Corsaro dell'Isola Verde interpretato da Bort Lancaster. E più tardi, se rimarrete con noi, vi ricordo l'appuntamento con il Grande Sport di Canale 5. Arrivederci! La nostra serata, cari amici, continua con il Grande Sport di Canale 5. E al termine l'ultimo film della giornata, un'esclusiva di Canale 5, che oggi vi proporremo in prima visione. Il TV Movie, dal titolo L'assassinio del senatore Long. A più tardi! Eccovi ora in esclusiva, in prima visione sugli schermi di Canale 5, il TV Movie, dal titolo L'assassinio del senatore Long, che si svolge nell'ambiente della politica americana. Ma prima di lasciarvi, devo segnalarvi per domani un pomeriggio interessante. A partire dalle 13.50, infatti a quell'ora vi proporremo il film Flamingo Road, che introduce la nostra omonima serie di telefilm, che trovate su Canale 5 ogni giovedì alle 20.30. Alle 15.30, appuntamento con lo sceneggiato I Boss del Dollaro, interpretato da Christopher Plummer e da Keith Douglas. E poi un altro interessante appuntamento, soprattutto per i giovani. Alle 17.20, gli eroi del rock'n'roll, un film nel quale vedrete rivivere tutti i personaggi protagonisti di questa fortunata epoca. Arrivederci!